Siamo qui alla Sapienza di Roma per parlare di un argomento molto importante per tutta la classe medica che è la gestione del rischio e del contenzioso. Quanto è importante affrontare dei momenti anche formativi e di confronto come questi per migliorare una situazione che molto spesso risulta molto difficile per la classe medica? Sì, sono delle occasioni uniche anche perché mette a confronto tutti quelli che sono gli attori principali sia la parte della magistratura, sia penale che civile, gli avvocati, i medici e le professioni sanitarie. E' importante anche per centrare una cosa che a molti sta sfuggendo in questo momento. Il rapporto sanitario, cioè quando un paziente si rivolge a un medico, sino ad oggi, per modo di dire chiaramente che da un po' di tempo, che non è più così, non è più un rapporto tra due persone fiduciario nel vero senso della parola, cioè non c'è un feedback reciproco di fiducia. Perché? Perché abbiamo trasformato l'atto medico in un contratto. E trasformando in un contratto, e il contratto si chiama anche in maniera impropria, ma lo è diventato il consenso informato, questo chiaramente fa cadere tutto quello che è una pregiudiziale legata proprio al fatto di avere fiducia reciproca. In più, devo dire che quel contratto poi deve essere rispettato soltanto in maniera unilaterale. Per cui ancora di più noi abbiamo una situazione in cui i medici, oltre a doversi difendere, e quindi mettono in pratica tutte quelle che sono gli scorsi di medicina difensiva, ovviamente rischiano di poi mettere in pratica anche un'altra metodica che chiaramente noi non riteniamo che debba essere fatta deontologicamente, ma è quella poi di scegliersi il paziente. Cioè dove c'è minor rischio, dove c'è minor possibilità di contenzioso. L'altra cosa fondamentale è che con una crisi economica molto importante che ci ha portato in Italia e con una differenzazione tra regione e regione, noi non siamo in grado strutturalmente di dare le stesse possibilità a tutti i pazienti in uguale modo. Quindi la qualità anche della prestazione delle strutture. Quindi l'importanza del rischio clinico per poter in qualche modo intervenire anche su quelli che sono dei processi che si svolgono all'interno di una struttura. Perché magari molto spesso molti degli errori poi scopriamo alla fine che non sono soltanto legati a una disattenzione o a una situazione magari non presa in piena considerazione da parte dei professionisti della salute, ma molto spesso proprio dalla filiera organizzativa. Molto spesso sono errori dati dall'organizzazione. Allora questo è un fatto che dobbiamo in qualche modo confrontarci tutti quanti, cercare di venirci incontro sotto questo aspetto. Non possiamo normare tutto. Ci sono sentenze ultime della Cassazione addirittura che dicono che non c'è più l'obbligo di mezzi ma anche l'obbligo di risultato. Voi capite che con questa situazione rischiamo davvero di avere proprio un blocco completo di quella che poi è l'attività e il rapporto tra medico e paziente e quindi anche quella che è l'umanizzazione. L'altra cosa molto importante è il fatto che purtroppo il tempo è la cosa più importante. Se noi non riusciamo a capire che il medico deve avere il tempo, il tempo di comunicare, che il tempo di comunicazione è il tempo di cura e non è tempo perso, questo è importante per chi organizza, non è possibile che un'ecografia deve essere fatta ogni 10 minuti o un'elettromiografia deve essere fatta ogni 5 minuti, non è possibile. L'esame deve essere fatto nei tempi e nei modi di comunicazione in maniera corretta. Se noi riuscissimo a capire questo probabilmente riusciremo anche a risolvere dei problemi. dobbiamo far ritornare quello che era una volta il buonsenso. Il buonsenso non si può normare.